Il dovere degli amministratori comunali è quello di fare in modo che i propri cittadini vivano tranquillamente e serenamente nel posto dove lavorano e dove hanno le loro famiglie. Ma questo purtroppo non succede sul problema delle abitazioni. Abbiamo una situazione abitativa estremamente grave che riguarda essenzialmente i residenti. Una situazione abitativa che è andata mano a mano peggiorando un po' per gli alti costi dei fitti, un po' perché è impossibile da parte di un giovane caprese poter comprare un'abitazione dato il costo altissimo delle abitazioni che riguardano l'isola di Capri. Noi abbiamo avuto due momenti in queste vicende. Uno che riguarda i condoni edilizi e l'altro che riguarda la problematica dei piccoli abusi di necessità effettuati da tanti capresi. A monto di tutti questi ragionamenti vi sono queste leggi di blocco che in realtà hanno fatto in modo che Capri fosse dichiarata zona inedificabile. Questo ha comportato che in realtà quelle piccole cose che si potevano ottenere prima dell'entrata del piano paesistico col piano regolatore del 1974 non si possono ottenere più, cioè quel piccolo 20% di aumento per quanto riguarda l'abitazione dei residenti. Cosa è successo in questi anni? È successo che in realtà ci sono stati molti condoni edilizi, che ancora devono essere espletati, ma la cosa ancora più drammatica è che dopo i condoni edilizi il cittadino purtroppo ha dovuto, diciamo, è stato costretto per vivere in questo territorio e non lasciare Capri, andare a vivere a sorrendere in altri posti, fare dei piccolissimi abusi di necessità. Voglio chiarire bene il principio che io sono assolutamente contrario contro l'abusevismo edilizio, ma sono contrario assolutamente contro l'abusevismo edilizio a quello che in realtà è di tipo speculativo. Ma quando noi ci troviamo di fronte a dei piccoli abusi di cittadini residenti, non possono essere considerati speculativi, ma devono essere considerati di necessità. Quindi hanno una valenza di tipo pubblico, perché un cittadino è costretto, diciamo, pur di vivere, in realtà a fare dei piccoli sotterfugli. E ripetiamo, si tratta di piccolissimi abusi di necessità. Cosa è successo? Noi abbiamo cercato, nelle passate amministrazioni, nel 2012 in particolare, in avanti di fare delle delibre di consiglio comunale che mettesse in ordine un po' la materia e desse la possibilità che, diciamo, anche la questione degli abbattimenti potesse, diciamo, portarsi a conclusione delle procedure di abbattimenti di questi piccoli immobili residenti solo alla fine delle, diciamo, dei vari ricorsi, diciamo, amministrativi, tar, consigli di Stato, eccetera. Queste delibre sono state puntualmente disattese da parte degli uffici e niente ha fatto, in particolare, la classe politica che ha governato questo comune, cioè la primavera su questa materia negli ultimi cinque anni. Solo nel 2018, sotto la nostra spinta, diciamo, che abbiamo posto il problema drammatico di famiglie che venivano rischiamare di essere messe in mezzo alla strada, siamo riusciti a far fare una delibera di consiglio comunale che ha permesso, con questa delibera, di, diciamo, ribadire quelle che erano state già precedentemente deliberate e dava la possibilità, diciamo, di aspettare, in attesa del nuovo piano urbano comunale, diciamo, la possibilità di evitare gli abbattimenti di questi cittadini perché altrimenti, letteralmente, sarebbero andati in mezzo alla strada. Anche questo è stato disatteso. Gli uffici, in questo, diciamo, periodo, sono andati avanti lo stesso per la loro, diciamo, per la loro strada, non hanno assolutamente considerato quello che il Consiglio comunale aveva deciso con gli atti di indirizzo e questo dimostra ancora una volta la debolezza dell'amministrazione della, diciamo, della primavera su questa materia. Il piano urbano comunale dovrebbe essere il nuovo piano regolatore, fermo restando che poi, diciamo, a valle bisogna affrontare il problema del piano pesistico dell'isola di Capri che coinvolge i due comuni perché in realtà c'è questo, diciamo, assurdo blocco della possibilità di costruire anche delle piccolissime cose o di adeguare le strutture, diciamo, commerciali. Ma quando si parla degli ultimi tempi di abuso, diciamo, di piano urbano comunale, in realtà non si vuole conoscere, non si vuole dire che il nuovo piano urbano comunale impostato già da me nel 2012, in realtà per 5 anni è stato in un cassetto fermo e solo negli ultimi mesi del 2018 è stato, diciamo, posto attenzione proprio perché scadevano i termini per l'approvazione dello stesso. E quindi niente anche su questa materia è stato fatto. Io ho fatto una delibera di consiglio comunale che dà la possibilità ai cittadini Capris che hanno un'abitazione sopra i 75 metri quadrati di poterla dividere sotto questo metraggio e di poterle dare una parte ai propri figli. Questa delibera, diciamo, è stata anch'essa, diciamo, non è stata portata avanti e questo potrebbe essere uno degli strumenti che potrebbe dare la possibilità ai cittadini Capris di poter vivere su questo territorio.